Come vedete ho lasciato solo lo specchietto delle derivate e le abbiamo calcolate con tanto fatica e ce le teniamo adesso voglio andare però a precisare per bene il discorso sugli infinitesimi e denunciare in maniera corretta il principio di sostituzione degli infinitesimi allora l'argomento è principio di sostituzione degli infinitesimi poi vedremo anche quello degli infiniti di sostituzione degli infinitesimi allora cominciamo con la definizione f di x una funzione si dice infinitesimi per x che tende a x con 0 se solo se per definizione il limite il limite per x che tende a x con 0 di f di x è uguale a 2 scriveremo f di x uguale o piccolo di 1 il infinitesimo generico si rappresenta così qua c'è un punto in virgo o o cosa mi interessa se io so 2 infinitesimi mi interessa confrontarlo definizione definizione siano f grande di x f piccolo di x è uguale a un piccolo di x 2 infinitesimi per x che tende a x con 0 cioè 2 funzioni che tendono a 0 cioè 2 funzioni che tendono a 0 quando x tende a x con 0 si dice che f grande di x è uguale a un piccolo di f piccolo di x quindi è di ordine superiore a f piccolo di x se e solo se per definizione esiste una funzione h di x infinitesimo per x che tende a x con 0 tale che f grande di x è uguale a f piccolo di x per x per h di x in unito x con 0 ok qualcuno potrebbe dire vabbè se vado a fare il limite di f grande su f piccolo per x che tende a x con 0 questo limite quanto fa? chi è f grande su f b? è h f grande su f b? è h quindi quando faccio il limite per x che tende a x con 0 questo limite quanto fa? io cosa so di x che è infini? quindi questo limite fa? 0 se esiste cosa può succedere? cioè purtroppo qua ci sono tutta una serie di piccoli dettagli che non ho nessuna intenzione di perdere tempo a precisare la definizione si dà così ovviamente se si può fare il rapporto questo limite tende a 0 però questa definizione facciamo un esempio prendiamo la funzione esempio f di x uguale x seno di 1 su x è uguale a 1 piccolo di 1 quando x tende a 0 badate bene che questa funzione non è definita in 0 ma nessuno ha chiesto che un infinitesimo sia definito nel punto x con 0 deve solo tendere a 0 perché questa tende a 0? perché per x diverso da 0 questa è definita ed è il limite insieme è compreso tra meno 1 e questa invece tende a quando questa qua è limitata tra meno 1 e 1 questa qua tende a quando x tende a 0 tende a sempre allora una cosa limitata quindi questa qua è compresa tra più x e meno x terreno a due carabinieri x tende a 0 meno x tende a 0 questa funzione tende a 0 è un infinitesimo se io prendo f grande di x uguale x quadro seno di 1 su x posso dire che ho piccolo di f piccolo di x posso scrivere così leggendo la definizione chi è questa funzione qua? è f piccolo per x quando x tende a 0 la funzione h chi è? x x tende a 0 si e quindi questo è un infinitesimo di ordine superiore a questo posso fare il rapporto? no perché questa funzione nell'intorno in qualunque intorno di 0 si annulla infinite o quindi se si può fare se posso se esiste f grande su f piccolo questo questo limite deve fare 0 ma la definizione viene data in generale perché deve coprire anche questi casacoli chiaro? più chiaro di così non lo posso rendere perché se non devo prendere troppo tempo alcune ci hanno le cose essenziali che ci serviranno le metterò bene in giro quindi la definizione di infinitesimo di ordine superiore è quando abbiamo un infinitesimo di prima moltiplicato per un altro infinitesimo otteniamo un infinitesimo di ordine superiore se io ho un infinitesimo f piccolo e lo moltiplico per un infinitesimo generico h piccolo ottengo un infinitesimo vediamo f grande di ordine superiore ecco si dice invece si dice invece si dice invece f grande è dello stesso ordine di f piccolo che si scrive di f piccolo vabbè non lo scriviamo perché in realtà matematica ha un significato e informatica ha un significato un po' diverso quindi sesto lo sei per definizione che esiste esiste h piccolo infinitesimo e k una costante numero reale diverso da zero tali che f grande di x è uguale a f piccolo di x per k più h di x in un intorno quindi due finitesimo quando è che sono dello stesso ordine quando f grande è uguale a f piccolo stavolta non per h ma per h più una costante diversa da zero quindi sempre se potessi fare il rapporto questo rapporto qua prima tendeva a zero adesso quanto dovrebbe tendere? se esiste il limite per x che tende a x con zero di f grande su f piccolo allora se esiste f grande su f piccolo questo limite farà quando fa? rimane k più h h tende a zero quindi rimane k chiaro? ora con queste definizioni si può vedere si può dimostrare facilmente è un esercizio e non lo faccio perché finisco soltanto di rimambire la testa che essere un infinitesimo dello stesso ordine o di ordine superiore è una relazione di pluralenza ok? allora se io che ne so ho un infinitesimo g grande che è di ordine superiore a f grande che è di ordine superiore a f g grande sarà pure lui di ordine superiore a f b se ho un infinitesimo g grande che è di ordine superiore o dello stesso ordine di f grande che è di ordine superiore dello stesso ordine di f piccolo un g grande sarà di ordine superiore o dello stesso ordine di f piccolo se f grande è di ordine superiore o dello stesso ordine di f piccolo e f piccolo è di ordine superiore o dello stesso ordine di f grande in realtà sono dello stesso ordine si può dimostrare che è una relazione di uguale quindi gli infinitesimi si possono mettere in una relazione di uguale adesso come funziona? adesso concentriamoci in un punto x con 0 x meno x con 0 si dice l'infinitesimo fondamentale per x che tende a x con 0 f di x si dice infinitesimo di ordine k per di ordine alfa non necessariamente intero alfa maggiore di 0 per x che tende a x con 0 se solo se per definizione il limite per x che tende a x con 0 quindi il limite di f di x fra x meno x con 0 all'alfa è uguale a l di f ci metto i valori assoluti perché possiamo prima di tutto così possiamo definirlo anche con l'alfa non intero poi perché può succedere che questo limite magari per x che tende a scontare da sinistro o da destra potrebbe essere diverso e comunque vogliamo che sia di ordine alto se ci togli colore assoluto magari da una parte va bene in realtà manco così va bene però va bene così non la voglio musicare allora diciamo x meno x con 0 un infinitesimo che serve a misurare gli altri quindi un infinitesimo di ordine 3 quando è che è finito? quando lo vado a dividere per x meno x con 0 fu un po' allora ce la limite è finita allora vediamo un po' chi è più infinitesimo? chi è più infinitesimo di ordine maggiore? x meno x con 0 alla terza o x meno x con 0 alla seconda? mettiamoci anche un 5 davanti questo perché se faccio x meno x con 0 alla terza è uguale a un quinto per x meno x con 0 per 5 per x meno x con 0 alla seconda ma no cioè questo diviso 5 di esponzione tende a 0 quindi è più infinitesimo di questo ma questo è di ordine 3 questo è di ordine 2 quindi cosa se ne riguarda? lo potete fare con qualunque esponente più è alto l'ordine di infinitesimo cioè se ho un infinitesimo di ordine 7 e un infinitesimo di ordine 5 quello di ordine 7 è di ordine superiore a quello di ordine 5 cioè effettivamente l'ordine di infinitesimo rispetta le definizioni di prima cioè più è più alto l'ordine più l'infinitesimo è più l'ordine superiore chiaro? fate attenzione perché non tutti gli infinitesimi avranno un ordine allora se noi andiamo a prendere questa funzione prendiamo questa funzione qua f di x uguale x logaritmo di x per x maggiore di 0 ovviamente se no il logaritmo non si può fare facciamo tendere x a 0 da destra adesso quando facciamo supponiamo di fare il limite per x che tende a 0 da destra di x logaritmo di x fratto di x alla alfa dove alfa è un numero compreso tra 0 e 1 questo è uguale al limite per x che tende a 0 da destra di x alla 1 meno alfa e logaritmo di x questa potenza è positiva perché l'esponente diciamo tende a 0 perché l'esponente è positivo questo tende a più infinito però si può vedere questo è un limite notevole poi lo dimostrerete questo limite fa 0 se volete fa 0 o meno perché questo è positivo questo è negativo sempre 0 o meno quindi che significa? che questa funzione è un infinitesimo di ordine superiore ad alfa per ogni alfa meno di 1 allora voi immaginate che se un ordine superiore ad alfa per ogni alfa maggiore di 1 è di ordine 1 no perché se adesso vado a fare il limite per x che tende a 0 da destra di x logaritmo di x fratto di x cioè ci vado a dividere per l'ordine 1 questo limite fa viene infinito perché viene logaritmo di x quindi purtroppo gli infinitesimi si contano con l'ordine molto bene cioè ci sono infinitesimi di ordine 1 di ordine 2 di ordine 3 di ordine 1 mezzo di ordine 3 mezzo di ordine 4 e gli ordini rispettano cioè più è grande l'ordine più l'infinitesimo è superiore come l'ordine cioè se faccio un infinitesimo di ordine più alto fratto l'infinitesimo di ordine più basso quindi faccio però esistono degli infinitesimi come questo che vicino a 0 è di ordine superiore a ogni ordine minore di 1 ma non è di ordine 1 quindi mettere in ordine gli infinitesimi è una fatica improbata noi non vorremmo mettere in ordine gli infinitesimi noi ci basta sapere che quando facciamo un rapporto tra un infinitesimo di ordine più alto e un infinitesimo di ordine più basso poi il rapporto è interesse più precisamente a noi serve il seguente principio di sostituzione degli infinitesimi che faccio che faccio che faccio Grazie. Allora, questo ve lo dovete scolpire in testa, non ve lo dovete dimenticare mai perché ha un'importanza fondamentale. Allora, siano f piccolo di x, f grande di x, g piccolo di x, g grande di x, 4 funzioni infinitesime per x che tende a rispondere. Siano f grande di ordine superiore a f piccolo e g grande di ordine superiore a g piccolo. Poi, siano f piccolo e g piccolo diverso da zero in un intorno disponibile. Cioè, esistono intorno in cui la f piccolo e la g piccolo sono diversi da zero. Allora, il limite per x che tende a x con zero di f piccolo più f grande fratto g piccolo più g grande è uguale al limite per x che tende a x con zero di f piccolo su g piccolo. Perciò si chiama principio di sostituzione di infinitesime. Cosa dice? Dice, io sto facendo il limite di un rapporto. Lo posso fare il rapporto, sì, perché g in particolare, ma anche f, sono diversi da zero. g piccolo e f piccolo. Come vediamo perché servono g grande e f grande non ci servono. Allora, quando vado a fare il limite di questo rapporto, è uguale al limite di questo rapporto. Cioè, si possono trascurare, come si dice, gli infinitesimi di ordine superiore. Cioè, per esempio, sopra c'è un infinitesimo di ordine 2, un infinitesimo di ordine 3. Sotto c'è un infinitesimo di ordine 2, un infinitesimo di ordine 4. Allora, quelli di ordine 3 e di ordine 4 li trascuro e mi rimangono il rapporto degli infinitesimi di ordine più bassi. Mi faccio il limite. e quel limite, magari viene 7, era uguale al limite che dovevo calcolare prima. Ho questa uguaglianza in merità, 10 in più. Quando scrivo questo limite uguale a questo limite, significa che se questo limite non ci sta, non ci sta l'altro questo, significa che se questo limite fa più infinito, fa più infinito, è uguale a questo, cioè è un'uguaglianza completa, cioè nel senso, non può esistere l'uno senza che esista l'altro. Se esiste l'uno, esiste l'altro, e sono uguali. Anche se valgono più infiniti e meno infiniti. Il limite di sinistra esiste se solo se esiste il limite sono uguale anche se uno dei due vale più o meno. Quindi io posso, quando faccio il limite, ho un rapporto e ho il numeratore e il denominatore degli infinitesimi di ordine superiore, ovviamente, questi, le grandi e gli grandi, li posso tranquillamente trascurare. Li tolgo, faccio il rapporto di quello che rimane, quello che mi rimane sta fatto bene. Non esiste, vabbè non c'è problema, non esiste neanche prima. Fa 3, faceva 3. Fa 0, faceva 0. Allora, la dimostrazione la riesco a fare in del quadrino. Dimostrazione. F piccolo, F piccolo più F grande, fratto G piccolo più G grande, è uguale a F piccolo che moltiplica 1 più F grande su F piccolo, fra G piccolo che moltiplica 1 più G grande su G grande. F piccolo, fino alla dimostrazione. Per quale motivo? Se questo è di ordine superiore a questo, questa parentesi tende a? Questo tende a 0, questo tende a 1. Si può fare il rapporto, sì, perché F piccolo avevamo detto che era diverso da 0. Questo tende a 1. Analogamente, sotto questa parentesi, pure tende a 1. Allora, se il limite di questo rapporto esiste fa L, L per 1 fa L. Anche il limite di qua fa L. Se il limite fa più infinito, più infinito per 1, va più infinito. Se fa meno infinito, meno infinito per 1, va a meno infinito. Se non esiste, non esiste neanche questo, perché sennò questo diviso 1, esisteva pure questo. Cioè, da questa uguaglianza seguono tutte quelle affermazioni. Nel momento in cui questo è uguale a questo per qualcosa che tende a 1, è chiaro che è un prodotto, una cosa che tende a 1 si può trascurare. Quello che fa l'altro, l'altro fattore, fa tutto il prodotto. Se l'altro fattore tende a 7, tutto il prodotto tende a 7. Se l'altro fattore tende a più infinito, tutto il prodotto tende a più infinito. Se l'altro fattore non ha limite, tutti i prodotti sono già limite. Perché il secondo fattore tende a più infinito. È chiaro? Ok. Naturalmente, dobbiamo capire come applicarlo a questo telema. Per applicare questo telema avremo bisogno della formula di Taylor, delle formule di Taylor. Le formule di Taylor sono, non sono altro che una prosecuzione di cui il discorso abbiamo iniziato con le derivate. Quindi, come stiamo a fare lo specchietto delle derivate e ancora non abbiamo finito? Quando avremo finito lo specchietto delle derivate, parleremo di derivate in ordine superiore di formule di T. perché sarà utile tutto ciò, lo vedremo quando andremo a fare il limite. In particolare, vedremo che con il principio di sostituzione di infinitesimo, accoppiato agli sviluppi di Taylor, più che precisamente quasi sempre si faranno gli sviluppi di McLaurin, oppure faremo gli sviluppi all'infinito e poi vedremo come. Saremo in grado di smontare i limiti molto più complicati di quelli che in genere trovate anche con il creme di Taylor o altri limiti particolari che potete aver fatto. Ci sarà un metodo generale che vedremo, funzionerà molto bene e vi permetterà di calcolare i limiti che alle superiori non ve la sognavate neanche. E sarà tutto molto semplice. Noi siamo partiti piano piano, però se uno sta all'università non è che si può accontentare di fare quello che... se no, vi facevamo quello che avevate fatto di due ore. Chiaro? Allora, facciamo un attimo, ricapitoliamo, anche perché qualche altra piccola cosa la voglio fare oggi perché ci mancano un po' di smettere. Allora, che cosa abbiamo fatto stamattina? Per prima cosa, volevamo continuare a fare il nostro specchio di derivate, quindi abbiamo cominciato con i polinomi. Una volta che sappiamo derivare il primo nome, sappiamo derivare il primo nome e tutte le funzioni reazionali. Poi già dall'altra volta sappiamo derivare seno e coseno, quindi possiamo derivare anche tangente e tutte le funzioni trigonometriche che a numeratore e a numeratore hanno anche le funzioni trigonometriche oltre ai polinomi. Poi però, abbiamo detto, andiamo a vedere anche qual è il significato geometrico della derivata. Il significato geometrico della derivata è il coefficiente angolare della lettera tangente. La derivata c'è, se sto così, c'è la lettera tangente. Il coefficiente angolare della lettera tangente è la derivata. La derivata positiva ci dice che la funzione vicina a x con 0 sta crescendo. Nel punto x con 0 sta crescendo. La derivata negativa ci dice che nel punto x con 0 sta crescendo. Se la funzione x con 0 sta crescendo però la derivata è maggiore o uguale a 0. Cioè non c'è mai equivalenza perfetta. Questo qua sarà un problema costante, cioè non avremo mai una caratterizzazione perfetta. La funzione crescendo in x con 0 è derivata maggiore o uguale a 0. La derivata maggiore di 0 è la funzione crescendo in x con 0. E comunque anche quella è un'informazione. Poi abbiamo allungato il nostro specchietto delle derivate andando a fare anche le derivate delle funzioni esponenziali e delle funzioni iperboliche. E quindi sappiamo fare anche questo. Ora cosa ci manca nel nostro specchietto per completare? Ci mancano le funzioni immerse. Ci mancano le derivate delle funzioni immerse delle funzioni micolometriche, cioè di al coseno, al coseno, al coseno e al cosangente e delle funzioni immerse delle funzioni iperboliche, cioè al coseno iperboliche, o se tu il seno iperbolico a seconda di come si voglia chiamare, al coseno iperbolico e al coseno iperboliche. Ok? Poi ci mancano le derivate delle radici, potenze con esponente, però tutte queste piccole cose le possiamo fare tranquillamente ma abbiamo bisogno di risultati sulla derivata della funzionale. Questo risultato ve lo accenno tra poco. Per finire il riepilogo però che cosa abbiamo fatto poi? E abbiamo visto che quando abbiamo parlato di significato geometrico della derivata abbiamo detto che la funzione derivata di x con 0 significa che la mia funzione ha una struttura ben precisa vicino a x con 0, ha un valore costante f di x con 0 più un pezzo che vedremo si dice che è lineare in x con 0 perché è una costante per x con 0, cioè cresce linearmente nello spostante. più altri pezzi che però sono infinitesimi di ordine superiore al primo. Quindi funzione derivabile vuol dire un valore costante più un pezzo lineare più un infinitesimi di ordine superiore al primo. Questa è la struttura della funzione vicino al funzione. non è detto che una funzione sia derivabile non per forza, abbiamo visto. Un'altra cosa che abbiamo fatto era il teorema di Fermat ma quello veniva dal discorso di crescenza e di crescenza. Il teorema di Fermat però era utile perché ci diceva che in un punto di massimo di minimo relativo alla funzione ne avrete derivata nulla ma ci sono altre due condizioni al fatto che il punto sia interno e che ci sia la derivata proprio perché non sempre c'è la derivata la derivata non c'è, la funzione è valore assoluto di x nel punto 0 cioè il minimo assoluto relativo ma non ha la derivata. nei punti 1 e meno 1 ha punti di massimo relativo ma la derivata una parte vale meno 1, una parte vale 1 quindi sembra proprio che... e invece no perché quelli sono punti non interni e Fermat in quel caso dice che nel punto di sinistra la derivata è negativa, minore qua di 0 il punto di sinistra è la derivata di maggioranza. Poi, abbiamo quindi, in tutte queste cose abbiamo cominciato a parlare di infinitesimi già abbiamo cominciato a parlare dalla settimana scorsa allora abbiamo detto che bisogna precisare esattamente cosa voglia dire il termine infinitesimi il termine infinitesimi indica una funzione che il infinitesimo per x che tende a x con 0 è una funzione che per x che tende a x con 0 tende a 0 si possono confrontare tra le derivate di infinitesimi? sì! ci sono infinitesimi di ordine superiore e infinitesimi di ordine inferiore e anche infinitesimi di ordine dell'ossessore rossamente quando il rapporto tende a una costante diversa da 0 sono dello stesso ordine quando il rapporto tende a 0 il numeratore è di ordine superiore quando in scala voltare il rapporto tende a 0 allora sarà di ordine superiore il termine le definizioni precise le abbiamo date e quella definizione rappresenta da luogo a una relazione d'ordine però la cosa più importante di tutte sta scritta su questa lavanda principio di sostituzione infinitesimi quando io ho quattro funzioni infinitesimi e ho il numeratore che ha una struttura f piccolo più f grande il denominatore è g piccolo più g grande con f grande che è di ordine superiore più piccolo g grande e di ordine superiore più piccolo g grande e di ordine superiore più piccolo in questo rapporto f grande e g grande non contano niente vi ricordate u b maio e minor c s dove ci stanno gli infinitesimi di ordine inferiore che sono più grandi questa è una quantità più grande di questa è piccola ma questa è molto più piccola questa non conta niente si può toccare questa non conta niente si può toccare dimostrazione mettete in evidenza f piccola g piccola e questo è chiaro? tutto ripeto vale anche se questo limite non esiste o se questo limite vale più infinitesimi ok adesso abbiamo il principio di sostituzione dell'infinitesimi abbiamo ancora 9 minuti e quindi andiamo a vedere un po' come si fa la derivata di una funzione composta la derivata di una funzione composta è facilissima da fare la regola è facilissima da trovare solo che la dimostrazione che vi sto per fare non è generale vale la conclusione vale anche nel caso generale ma la dimostrazione che vi sto per fare è come dire abbreviata vale solo nel caso in caso particolare adesso vediamo qua questo allora chi è una funzione composta? vi ricordo che g composto f di e di x è uguale a g di f di x ok? allora x con 0 supponiamo che sia interno a e e supponiamo che f di x con 0 sia interno a diciamo a e e f va da e 1 a valori in r e g va da e 2 a valori in r allora f di x con 0 quindi la f di x con 0 assume un valore che sta nell'interno del dominio di g ok? tutto questo per comodità allora chi è la derivata di g composto f del punto x? appliciamo la definizione dobbiamo fare il limite per x che tende a x con 0 meno di g di f di x meno g di f di x con 0 fratto x con x con 0 questa è la definizione allora supponiamo per un attimo che f di x sia diverso da f di x con 0 in un intorno di x con 0 supponiamo questi costi allora io qui posso fare limite per x che tende a x con 0 di g di f di x meno g di f di x con 0 fratto f di x meno f di x con 0 per f di x con 0 per f di x con 0 fratto x con 0 ma allora uguale uguale posso dire fare il limite del prodotto e il prodotto del limite metto prima il limite di destra così qua, invece di fare x che tende a x con 0 pongo y uguale a f di x siccome f di x è derivabile allora, per ipotesi devono esistere la derivata prima della f di x con 0 e la derivata prima della g nel punto f di x con 0 questo lo vedremo subito deve essere per forza così se no i limiti che stiamo andando a calcolare non esistono allora qua se faccio tendere y a f di x con 0 y che è f di x ci tende a f di x con 0 perché se è derivabile è anche q continua quindi qua cosa mi viene? mi rimane g di y meno g di f di x con 0 fratto y meno f di x con 0 questo limite si può fare perché f di x avevamo detto era sempre diverso da 0 cioè y meno questo il denominato che si è diverso da 0 adesso quando andiamo a fare il limite cosa avviene? secondo voi? stavolta facciamo prima il limite di destra chi è il limite di destra? non è il rapporto incrementale della g in quale punto? è g di y meno g di f di x con 0 fratto y meno f di x con 0 questo a me sembra tanto il rapporto incrementale della g nel punto f di x con 0 quando y tende a f di x con 0 questo tende a g primo calcolato in f di x con 0 e questo invece è più facile è il rapporto incrementale della f quando x tende a x con 0 a chi tende? a f primo di x con 0 quindi se valgono tutte le cose che abbiamo detto la derivata della funzione composta calcolata di x con 0 scusate a che cosa è uguale? è uguale alla derivata della funzione esterna calcolata nel suo argomento per la derivata della funzione interna calcolata nel suo argomento questa si chiama regola della catena in inglese questo è chain rule chain rule regola della catena ne avete mai giocato a quei videogiochi con la motosega? quella si chiama chainsaw sega catena in genere in ingegneria almeno all'epoca mia ci giocavamo catena chain ok ok ora in realtà questa ipotesi qua quant'è che è sicuramente soddisfatta? quando la derivata questa qui è diversa da 0 perché se vi ricordate se la funzione aveva derivata diversa da 0 o era crescente nel punto o era degre quindi questo rapporto qui cioè f di x meno f di x con 0 era sempre di questa differenza qui era sempre diversa da 0 in x diverso da rispondere come in 2 nella parte della positiva nella parte della creativa viceversa quindi sicuramente se questa derivata è diversa da 0 vale la regola della catena in realtà questa regola della catena vale sempre anche se questa derivata vale 0 solo la dimostrazione è più complicata cioè il risultato che abbiamo scritto qua vale anche anche se questa ipotesi la aumentiamo naturalmente la dimostrazione non è più complicata ok? poi la vediamo giovedì la dimostrazione completa però quello che è importante è cominciare a familiarizzare perché con la regola della catena noi domani possiamo completare il nostro specchietto di derivate ok? grazie grazie